O per la wine, o per la wine! Ciao, mio nome è B.B. Gretz e rappresento la mia propria winera. Il nome della winera è una combinazione di mio nome, B.B. Gretz e Testamatta, che è il nostro vino principale. Oggi presentiamo Colore. Tre parole per descrivere il tuo vino. Probabilmente la migliore cosa per descrivere il mio vino sono le varietà di grape. Sono Colorino, Canaiolo e Sangiovese. Come facciamo le persone che fanno in amore con il tuo vino? Beh, proviamo a fare un vino che rappresenta il nostro territorio, il nostro vineyard, la Toscana, il nostro sangue, il nostro terzo. E questo è quello che proviamo a dare. Grazie. 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 Grazie.